Le 7.30 in apertura la terribile scossa di terremoto di magnitudo 7 che ha colpito il Marocco epicentro vicino Marrakesh. È successo poco dopo la mezzanotte ora italiana, 300 le vittime, 153 i feriti. Un numero però destinato purtroppo a salire diversi gli edifici crollate, le persone si sono riversate sulle strade. Sentiamo. Una scossa di terremoto di magnitudo 7 lunga più di 30 secondi ha colpito il Marocco ieri sera intorno alle 23 ora locale, mezzanotte in Italia. Al momento le vittime sono 300, almeno 153 i feriti e centinaia gli edifici distrutti. L'epicentro della scossa è stato localizzato a circa 70 chilometri a sud ovest da Marrakesh. Paura soprattutto nella Medina, parte delle mura che circondano il centro storico sono crollate insieme al minareto di una moschea vicino allo storico Café de France. Almeno tre le scosse di assestamento avvertite a Casablanca e a pochi chilometri da Marrakesh. Il ministro dell'interno aggiorna di minuto in minuto il bollettino ufficiale col numero delle vittime. Mobilitate le forze dell'ordine, la protezione civile e il personale medico per predisporre un piano di emergenza. Molti turisti sono in collegamento con l'ambasciata.